Sono nella tasca della borsa nera, tasca laterale. Allora è ripartita la finale della 3.000 metri eliminazione per il trofeo Skate Italia, categoria R12 femmine, passano con i contagiri a meno 6, ci sarà il suono della campana e poi entriamo nei giri che eliminano, saranno sempre doppie eliminazioni e faranno la volata in 9, già che la Matinte non è più della gara. Allora vediamo il gruppo sulla parte ombosta, quella d'arrivo, sulle curve del circuito stradale di Cassano D'Anda, che si ruba a 400 metri. Allora hanno preso il suono della campana e cominciamo con le eliminazioni. E allora ecco il gruppo che sta per entrare sul rettilineo d'arrivo e ci saranno le prime e due eliminazioni. Ci addolano il taglio, occupano tutta la sede stradale. 142.55, fermarsi. 524, ammonita. Ed eccole ora di nuovo sulla parte della curva che le mette sul rettilineo d'arrivo e siamo pronti ancora per una doppia eliminazione. 125, 257, fermarsi. Castelluovo, ci sono fermati. 250, ammonita. Ed eccole di nuovo al passaggio, eliminazione. 5.50, ammonita. 5.50, ammonita. 2.89, 2.34, fermarsi. 2.89, 2.34, fermarsi. Lorello, fermarsi. 123. 123 e 5 2 e 4 2 e 3 e 4 Lorello fermarsi 2 e 3 e 4 fermarsi Lorello ecco lei Campana ultime due eliminate 4 7 0 2 8 4 e intanto andiamo a vedere la volata 5 4 9 di sfida disqualifica ed eccole sul rettivino vanno a scrittare ed è grazie grazie